Il mister campione dell'Italia Massimiliano Campione mister campione dell'Italia Grande mister campione dell'Italia Grande mister campione dell'Italia E' stato votato prima dell'inizio della partita Giocatore dell'anno E' campione d'Italia Il capitolo della E-Webos Il numero uno Giallucci Grandissimo capitano Grandissimo capitano E' campione Campione dell'Italia Grande grandissimo capitano Attenzione Ecco la medaglia Il capitolo Attenzione a tutto Stai qua E' arrivato al momento Ancora una volta tanto atteso Da tutti i biancoleri Il presidente Lega Serie A Maurizio Beretta E' il Charme Senior Vice Presidente Luca Iosi Consegnano La coppa A campione dell'Italia Campione dell'Italia L'Italia L'Italia Il capitolo del pubblico L'Italia prendendo Mecchi liti e metterò abbiamo il cuore La strisce Poi pat Rutten Poi prov mentalità Grazie a tutti.